parliamo di dizione parliamo di pronuncia che paura ma no non è così complicato innanzitutto uno strumento che abbiamo a disposizione che sottovalutiamo è il dop non denominazione d'origine protetta il dizionario d'ortografia e pronuncia lo trovate online basta digitare dop rai perché è uno strumento della grande mamma rai questo comunque va tenuto presente sapete quante vocali ci sono in italiano 5 no sapete che i suoni vocali ci sono sette perché lei può essere chiusa o aperta e altrettanto la o certo la u non può essere più chiusa di u sono diventato e quello è un suono che non ci appartiene non è italiano la anche se la fai a diventa una più aperta no è dialettale la e solo la ma lei la o cambiano sappiamo tutti la differenza tra pesca e pesca forse non sappiamo tutti la differenza fra posto che è corretto e posto che è sbagliato oppure vogliamo fare i raffinati e dire bosco non sapendo che stiamo sbagliando perché si dice bosco con la o aperta insomma le vocali aperte e chiuse fanno la differenza vero amici della mia terra della sicilia si dice vero e lo so è difficile però prendendoci un po' di confidenza il tuo modo di parlare diventa più credibile più attendibile più affidabile chi ti ascolta avrà più fiducia in te grazie a tutti grazie a tutti